Vai, c'è Vado a te L'ho fatto per male, manco Ho iniziato a reccare Oh, bella raga Siamo qui, tornati su Black Ops 2 Vivo la mia vita a un quarto di milione la volta Vivo la mia vita con 10 euro Al mese Comunque raga, sono arrivato maestro prestigio Non so se l'avete notato E nulla, basta Dovò raccontarvi delle storie con i miei animali domestici Io ho avuto un po' di animali domestici Allora, quando ero piccolo Vabbè, non era mio, però comunque da mia nonna Avevo un gatto Si chiamava Neve, questo gatto Ed era bianco, tutto peloso Questo gatto non aveva il muso schiacciato Però era una via di mezzo Cioè, uno schifo era E... però faceva tante fuse Cioè, sembrava un vibratore Manco nel... manco Su Pornhub nella categoria Vibrator oppure... Oppure oggetti fallici Questo animaletto qua Quando mi mettevo a studiare La mia nonna Si metteva sopra di me E incominciava a vibrare Mi diventava il cazzo talmente rizzo che Poi, questo... questo animale Ha incominciato a decomporsi vivo Cioè, non sto aggiungendo cosa cazzo Questo... questo gatto Ha incominciato a decomporsi Quando era ancora vivo Ma ha rotto il cazzo questo Cioè, prende... l'orecchio Ha iniziato a decomporsi Incominciava ad entrare e uscire mosche Dall'orecchio perché la... Puzzava di morto Aveva anche la sua età Però ha iniziato a decomporsi Quando era ancora vivo Talmente vecchio Che vaffanculo Entravano e uscivano Queste mosche E quindi noi abbiamo dovuto Mettere una specie di retina Sapete come i filtri Quelli dei rubinetti dell'acqua O qualcosa del genere Comunque una retina di... Plastica Penso che è di metallo Penso che faccia male Una retina di plastica Nell'orecchio In modo che non entrassero le mosche Però lui ormai era diventato sordo Cioè, anche dall'altro Cominciava a decomporsi E gli uscivano i vermi E... Quindi era diventato uno schifo di gatto Era bianco Però ormai... Uno schifo Poi un altro... E niente Alla fine poi è morto Poi l'altro animale domestico È stato... Sempre da mia nonna Mia nonna aveva tutti gli animali Cioè aveva Aveva pure... Era uno zoo Compresa mia madre Aveva una specie di canarino Che non era un canarino Era una pulcia praticamente Sarà stata grossa... Così Cioè In confronto alla guancia Era un coso minuscolo Era E... E niente Prende Di notte Visteva Di notte Cominciava a gridare Chiamava tutti Poi un giorno Mi ricordo che era pure scappato Prende Apre la... E apre Non è che c'ha le mani Comunque Non so come ha fatto Vaffanculo Cambiamo gioco Andiamo su Mv3 Prende si era aperta La porticina Quella della gabbia Comunque Sfrisato Nel mio cazzo E nulla E apprende è iniziato a volare Per casa Poi si vede che mia nonna Non se ne aveva manca accorta Ha aperto la porta E questo è scappato È andato Poi Tipo dopo due giorni È tornato Non si sa come È tornata a casa È tornata a casa Quindi c'era il canarino giallo Il gatto bianco Il cavallo bianco La tigra e zebrata Poi vabbè Invece questo è in casa mia Proprio Proprio in casa In casa Mentre dormivo Lo tenevo Avevo un pesce rossi Avevo un po' di pesce rossi Pesce rossi Avevo un po' di pesce rossi Prende quelli Non Allora Mi ricordo che una volta L'avevo proprio comprato Dal Da dove vendono gli animali Comunque Non mi ricordo come 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 si chiami Avevo preso questo pesce rossa L'avevo chiamato Schumacher Non chiedetemi Perché Perché all'epoca Era Era abbastanza Preso dalla formula 1 Perché c'era C'era Schumacher C'era ancora Barichello Minchia Quanti Quanti ricordi E Lì c'erano veramente Le gare quelle potenti Non come adesso Che C'è un C'è un sorpasso A gara E baffanculo E vince sempre Hamilton Prende questo pesce Tutte le volte Ogni Ho fatto tipo Per tre anni forse O quattro Prende dei pesci rossi Prende Lo prendevo Poi tipo Verso Verso l'estate Che io andavo In vacanza Con i miei Tornava a casa E pesce era sempre morto Non avevo l'acquario enorme Grosso così Era la solita boccia Comunque Dicevo mio nonno Nonno Prenditi cura Di sciumi Si si Tranquillo Che pensi E moriva sempre Quattro su quattro Sono morti Perché Non lo so Cosa è successo O mio nonno Li dava troppo da mangiare Uno mi ricordo Che A un certo punto Li davo da mangiare A un certo punto Stava mangiando Li è rimasto dentro Cioè si vedeva proprio nella bocca Si vedeva nella bocca Il pezzettino di cibo Che gli avevo dato E a un certo punto Si vedono delle bolle Vedi il pesce che Mangia Poi Si gira la pancia in su E inizia a salire E tu dici Cosa è successo Sai di fatto che Prende sto pesce A un certo punto Non è che è esploso Il pesce dell'isis Cioè dopo aver sentito Bill Hayden Si vabbè Ma lagga tutto E Praticamente Dopo questi Cinque pesci Quattro Non mi ricordo più Avevo in casa I cricicci C'è stato il periodo Dei criceti No Prende Mia mamma Conosceva sta tipa Che non è che Allevava criceti Allevatrice di criceti Di criceti Di criceti Qua E Praticamente Mia mamma fa Riccardo Mi ricordo che ero tipo Stavo facendo il bagno Con il cazzo così E entra mia mamma e fa Riccardo Vuoi un criceto Io lo guardo e dico Ok E allora Oh è arrivato Ciano Aspetta che le scrivo Prende mia mamma Dopo tipo una settimana Mi ha portato a casa Questo criceto No Che era Era tipo Straciccione Però ci stava Mi ricordo che Gli avevo preso Vabbè la gabbietta solita E dopo averli preso La gabbietta Gli avevo presi I tubi Per Prende farli Far uscire Dalla Prende la gabbietta Fate conto che sia così Aspetta Non si vede Fate conto che sia così Prende il tubo Usciva da una parte Faceva tipo Un giro Entrava dall'altra Cioè prende lui usciva Dalla sua gabbietta Entrava in questo tubo Ed era strafigo No Lo gif Tra un certo punto Questo criceto è diventato Totalmente ciccione Che non riusciva più Che non riusciva più A passare dentro Questo tubo E quindi Sti cazzi Poi avevo preso La solita Roba che gira Che non mi ricordo Come si chiama Solita roba che gira Che anche quello Era Era una figata Perché comunque A un certo punto Di notte sentivi Così che arrivava Poi sentivi Perché cicolava tutta No E quindi sentivi Tutto Cioè sentivi Tutto il tempo Così di notte Che ti partivano I cristi Alle 4 di notte Che avevi 11 anni I criceti Alla fine L'avevo chiamato Perché ancora i tempi Quando c'erano I bei tempi Di cartoni Una l'avevo chiamato Doraemon E invece quell'altro L'avevo chiamato Tipo Non chop Però Come si chiama Quello E Vabbè Quando mi viene in mente O lo dico Oppure lo cerco Dopo In fase post produzione Erano due cricetini Bastardi E a un certo punto Mi amma fa E nulla Questi due cricetini Erano due maschi Quindi Certe volte Proprio litigavano Tra loro Per dire Io c'ho il cazzo Più grosso I cricetini Sono tutti idioti Perché iniziano a fare Sempre le stesse cose Tutti il giorno Poi io li compravo I semi di girasoli Che si mettevano lì Mi ha rotto il cazzo Si mettevano lì Cominciavano Così E le prente Li sbucciavano tutti Manco adesso Le ragazze Che mi scop... Un giorno Le prente Li stavo dando A mangiare E poi uno non usciva più Dalla casettina Con tutto il cotone Che le avevo messo Manco Manco i negri Nei campi rom A tirar su il cotone Vedevo che sto criceto Non usciva più Dalla sua casina Allora ho detto Così E vedevi che Erano talmente ciccioni Che in aria Poi Si aprivano E facevano tipo Lo scogliattolo Con lo volante Ma era una cosa Troppo da ridere Questa sarà Una nuova serie Su D-Max Berna E gli animali domestici E praticamente Che è successo Io allora Ho preso La casetta L'ho alzata E a un certo punto Ho visto Sto criceto A pancia all'aria Tutta a pancia all'aria A pancia all'aria Con le budella fuori Cioè Questo gli era venuta La diarrea E aveva cagato Le budella Cioè Voi pensate Quanto aveva spinto Che tra l'altro Cioè Le cagate dei criceti Sono delle cose Minuscole Sottilissime Che sono le mine Quelle Delle matite Che tu fai così Per uscire la mina Vede vedi sto coso Tipo Una mini sassiccia Rosa E tipo Il criceto con la pancia Tipo tutta sgonfia Cioè Non regolare Ma tipo Tutta sgonfia Tipo tutto prosciugato E nulla L'altro poi è morto Perché tipo Avevo comprato la palla Quella Che almeno lui può Tipo vagare in giro Per la casa A parte che Per un periodo di tempo Non l'ho più visto in giro Non ho trovato più la palla Non trovo più il criceto L'avevo fatto andare sul balcone E prende io La casa Tipo A due piani Prende piano terra E primo piano Praticamente Il piano terra Ci sono i nonni Piano sopra Ci sono io E c'è la rampa di scale Rampa di scale esterna Quale è successo? Potete immaginare Il criceto è caduto dalle scale Ho riaperto la palla Il criceto non si muoveva più Ok Dopo questa avventura Con i criceti Altro animale domestico Sono stati i cani Forse un altro criceta Avevo preso Però alla fine Dopo un po' Era morto Poi mi aveva rotto il cazzo Che puzzavano come la merda Allora Il primo cane Che io ho avuto Vabbè che i miei Ovviamente ne avevano un altro Era un tipo Gli Gli orkshile Penso che si chiamino E poi lì vabbè Erano normalissime Erano piccolini Poi avevo preso Una specie di meticcio Che era arancione Cioè raga aveva il pelato arancione Era una tigre Però era 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 stronzo Cioè non ti cagava mai Poi non era mai stato addestrato Quindi Cioè nel senso Non è che Oh cazzo Non essendo addestrato Facesse schifo Però comunque era Era stupido Era tanto Tu lo chiamavi Si girava dall'altra parte Andava dall'altra parte Mi devo concentrare per la partita Continuiamo dopo il discorso Grazie